Strade chiuse, mezzi impantanati e alberi caduti, sono tanti i disagi che stanno interessando anche l'Agrigentino, dopo le forti piogge delle ultime ore. L'Altrameteo lanciata ieri sembra comunque non aver lasciato pesanti conseguenze, o almeno non gravi, come gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi scorsi, prima sull'Icata, poi sul versante Saccense. Adesso che il peggio sembra passato, si fa la conta dei danni e dei disagi. In via dei fiumi, ad Agrigento, i vigili del fuoco sono intervenuti tre volte nelle ultime ore a causa della strada allagata. L'acqua è arrivata all'altezza del marciapiede. Disaggi anche in via degli Olivi, a sud della città, nella zona del villaggio Mosè, la strada è stata parzialmente chiusa per un allagamento. Sempre nel capoluogo Agrigentino, un'auto è rimasta intrappolata in via delle Dune a San Leone. Ieri il Dipartimento regionale della protezione civile aveva diramato allerta meteo, codice arancione, per una forte perturbazione sulla Sicilia. Tutti i sindaci dell'Agrigentino hanno firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole cittadine nella giornata di oggi per rischio idrogeologico ed idraulico. Chiuso un tratto della strada statale 118 Corleonesa-Agrigentina tra Cianciana e Raffadali, a causa della caduta massi per il maltempo, sul posto sono intervenute una squadra dell'ANAS e delle Forze dell'Ordine per garantire la circolazione in piena sicurezza. A Casteltermini, dove ieri un grosso massore ha crollato sulla strada provinciale, stazione Campofranco-Cozzodisi di Casteltermini, i tecnici del Libero Consorzio al termine del sopralluogo hanno evidenziato il concreto rischio di ulteriori distacchi del costone, con gravissimi rischi per gli automobilisti. Strada dunque chiusa con notevoli disagi per gli abitanti di Casteltermini, costretti a fare un complesso percorso alternativo per entrare ed uscire dal Paese. In più, dal Libero Consorzio fanno sapere che a causa della mancanza di risorse finanziarie si prospettano tempi di chiusura piuttosto lunghi. Strade sommerse dall'acqua anche a Portempedoclo, dove sono stati registrati disagi in via Lincoln, e a Santa Margherita Belice, in via San Francesco. Un camion invece è rimasto impantanato lungo la strada che collega Ravanuso a Campobello di Licata. Allagata anche la strada comunale Marcotto a Licata, mentre sulla statale 626, nei pressi di Canicattia, a causa del forte vento, un albero si è stradicato finendo sulla strada. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per un muro pericolante sulla statale 624, nei pressi di Santa Margherita Belice. Grazie. 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 Grazie.